CES 2019 ci troviamo presso lo stand di Samsung, questo è uno dei prodotti più innovativi che abbiamo visto durante la fiera di Las Vegas. Si tratta di un monitor utilizzabile sia per il business che per la parte ludica e si chiama Space, perché ha questo nome, ha anche dei nomi in codice, che è SR75, questa è la versione 32 pollici 4K. La particolarità è che ha una morsa che viene stretta sul tavolo e occupa praticamente zero spazio perché è completamente schiacciata contro il muro. Va benissimo per postazioni di lavoro molto molto piccole e con un semplice gesto si può abbassare in questa maniera, si può abbassare così e poi volendo potete anche reclinarla fino a questa inclinazione. È fighissimo perché è molto molto versatile ma vi aiuta a non avere più ingombranti monitor che stanno a metà della scrivania, rubandovi così tutto lo spazio possibile. Guardate qui, pazzesco! Pazzesco! Non ha quindi più nessuna base, semplicemente una morsa che si aggancia, come dicevamo, al tavolo. Vedete le diverse posizioni e l'altra cosa particolare, se possiamo fare zoom su quell'immagine lì in alto, si vede molto bene come questa struttura è praticamente priva di cavi. C'è un solo cavo che si sdoppia in alto e avete sia l'alimentazione che l'HDMI e si incastra in una canalina all'interno della struttura. Questo fa sì che non ci siano cavi fastidiosi in giro per il vostro ufficio e sulla vostra scrivania e secondo me è davvero una soluzione molto innovativa. Questa è una versione per il lavoro, quella versione lì non è in 4K ma è da 27 pollici, però ha una frequenza di aggiornamento da 144 Hz che lo rende ottimo per tutti coloro che amano videogiocare. Dal CES è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!